I carabinieri stanno ascoltando gli amici e i genitori del sedicenne, pestato sabato notte dopo aver partecipato ad una festa studentesca nella discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. La procura e il Tribunale dei Minori di Venezia hanno aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. In queste ore si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna al locale che i gestori hanno già consegnato ai carabinieri. All'interno della discoteca erano presenti anche 12 vigilantes, proprio per monitorare l'andamento della serata, una festa studentesca a cui partecipavano quasi 900 ragazzi. I carabinieri potrebbero acquisire anche i cellulari dei giovani, visto che durante la serata anche altri due ragazzi sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati sul posto. Il sedicenne, che abita nella provincia di Padova, era rientrato a casa accompagnato da un amico e intorno alle 4 di notte si è sentito male. Aveva vistose contusioni al volto. Il padre lo ha portato in ospedale, dove è stato operato per una frattura cranica e per ridurre un ematoma cerebrale. Il ragazzo, ricoverato ora nel reparto di neurochirurgia, si sta riprendendo, si è svegliato e ha detto di non ricordare nulla della serata in discoteca. Il papà è stato sentito dai carabinieri di Campo San Piero. Per individuare gli autori del pestaggio sarà fondamentale capire dove e quando è avvenuta la rissa, se all'esterno o all'interno della discoteca.